L'effetto coronavirus ha avuto delle ricadute pesanti anche sul commercio e turismo nelle marche. La psicosi minaccia anche la salute delle imprese a partire dalle agenzie di viaggio, dove si moltiplicano a livello regionale le richieste di cancellazioni di viaggi già prenotati e rimborsati giunti ad agenzie e tour operator. Da quando si è diffuso l'allarme e la presenza sul territorio di casi effetti da Codiv 19, anche la provincia di Pesero-Urbino ha registrato una battuta di arresto molto forte per le prenotazioni negli alberghi. Una situazione molto brutta, noi abbiamo fatto un sondaggio questa mattina, abbiamo un 50% di calo. Gente che non viene a lavorare nelle nostre zone perché hanno paura di dopo rimanere fermi qui perché diventerà zona rossa. Ho saputo degli alberghi, alcuni alberghi a Pesero hanno chiuso proprio definitivamente perché non avendo presenze preferiscono di mandare in ferie e chiudere l'attività. Calo anche nel settore commercio tradizionale, il direttore di Conf Commercio Provinciale si mostra preoccupato sulla ricaduta economica del territorio. Se questa situazione dovesse perdurare, dice Varotti, creerà danni incalcolabili a livello economico in tutti i settori produttivi. Questo avrà una ricaduta devastante comunque sul comparto economico. I nostri associati, quindi sia a livello commerciale che di aziende, sono seriamente preoccupati. Diventa anche difficile comunque reperire la merce, quella che viene anche dall'estero. Quindi siamo fortemente preoccupati. Proprio un calo di presenze, sia appunto, come dici, in centro storico, sia anche nei centri commerciali. Poi ha maggior ragione perché magari pensano che nei punti di aggregazione più importanti sia anche più pericoloso. Nel Fanese la preoccupazione degli esercenti è sempre più evidente per il calo degli affari a partire dai bar. Si sono registrati dei cani anche perché l'impatto psicologico sicuramente c'è stato. Adesso vediamo nel fine settimana come reagirà la gente, però in questo periodo sicuramente ne abbiamo sentito parecchio. La gente ha paura di uscire, quindi vediamo nessuno neanche a fare colazione, lavoriamo molto molto meno. Ieri mattina con la giornata di mercato è stato forse uno dei peggiori mercati che io mi ricordo. Proprio la gente non c'era. Poi con il fatto della scuola chiusa al mattino sembra che ci sia il coprifuoco. Cioè proprio fino a una certa ora non si vede una persona. Sta fobia passerà prima o poi. Ho diminuito tanto il lavoro, ma la città comunque è proprio deserta. Grido di allarme proviene anche da Confesercenti. La categoria denuncia il completo annullamento delle prenotazioni di servizi. Resta la preoccupazione per la sospensione delle domeniche gratuite nei musei statali, con ricadute sulle guide e accompagnatori turistici, con il rischio di azzerare la reddittività stagionale del settore.